Ultima edizione di Stadionews in studio Benedetto Giardina. Torna in campo questo pomeriggio il Palermo, reduce dalla seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il 2-0, inflitto alla Sampdoria. La squadra di Davide Ballardini inizierà quest'oggi. La preparazione in vista del match di domenica prossima, che vedrai Rosa in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Prima seduta settimanale questo pomeriggio sul campo del tenente onorato di Bocca di Falco. Intanto prosegue il conflitto a colpi di comunicati tra Maurizio Zamparini e Gustavo Mascardi, rappresentante della Penciling Limited, società che vanta diritti sul trasferimento di Paolo Di Bala dall'Istituto d'Accordo a Balpalermo. Il presidente del club è Rosa Nero, tramite un comunicato ufficiale, annuncia di aver ricevuto un atto di pignoramento presso terzi per i crediti nei confronti della società, facente riferimento a Mascardi. Il Palermo si è già attivato per difendere i propri interessi in sede legale. Dopo due stati senza sosta tra Mondiale e Coppa America, Giancarlo Gonzales potrà finalmente fare una pausa al termine di questa stagione. Il centrale del Palermo, infatti, non è stato inserito nella lista dei pre-convocati del CT della Costa Rica per la Coppa America Centenario, in programma quest'estate negli Stati Uniti. Gianni Di Marzio, consulente tecnico del Palermo, ha parlato così del mercato dei rosa e del suo ruolo in seno alla società. Sono andato a Palermo per aiutare Zamparini, che con me si è sempre comportato bene, ha messo Di Marzio. Mi ha chiesto di fargli da consulente per i calciatori che prende dall'est Europa. Vasquez è fortissimo, è un trequartista mancino a fantasia e fisico, è stato malmenato sportivamente a Frosinone, non si è allenato per tutta la settimana, ha fatto solo terapia e contro la Sampedoria è stato il migliore in campo. Credo che il Palermo quest'estate lo venderà. Per tutte le altre notizie è stadionews.it